Cosa non dovete fare in un colore di lavoro? E la domanda più importante che dovreste capire a questo punto è come si fa come può. E la domanda più importante che dovreste capire. E la domanda più importante che dovreste capire. E la domanda più importante che dovreste capire.